Sei posti letto per lungodegenza, quattro posti letto in più per il reparto di riabilitazione. Sono queste le novità che si registrano all'inizio dell'estate nell'ospedale Regina Margherita di Comiso. La Direzione Generale ha deciso l'attivazione di sei posti letto di lungodegenza, per ora allocati in due stanze del reparto di medicina, in attesa che venga attivato il nuovo reparto che aprirà i battenti nel 2012. Da domani ufficialmente ci sono sei posti letto di lungodegenza attualmente allocati in medicina e prossimamente sarà un unico reparto con 24 posti letto, ma già comunque sono operativi e abbiamo anche due ammalati. Quando arriverà il reparto vero e proprio? Il reparto vero e proprio, chiaramente dovremo fare tutta una serie di modifiche strutturali e già l'ufficio tecnico dell'azienda sanitaria provinciale si sta attivando perché dobbiamo anche fare delle opere murari, per cui penso che fra sei mesi avremo il reparto di lungodegenza completo, così come il regito del decreto assessoriale del 25 maggio 2010. Novità anche per il reparto di medicina fisica e riabilitativa, che passerà da 9 a 24 posti letto. Nel frattempo, da qui a qualche settimana, ne saranno operativi 13. Anche per il reparto di riabilitazione abbiamo aggiunto altre 4 posti letto, al regime anche il reparto di riabilitazione avrà 24 posti letto, così come dice il piano di cui parlavo poco fa del decreto sulla riorganizzazione dell'ospedale di Comiso e quindi già 4 posti letto saranno attivi in più rispetto ai 9 già presenti fra una decina di giorni.